Salve a voi spettatori di NanoTV, siamo con il sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, con la preside del 51esimo circolo. Oggi qui per la consegna simbolica delle chiavi del auditorium annesso al 51esimo circolo. Una battuta sindaco su questo evento positivo per la scuola? Vedete, tutto quello che si fa per la scuola si fa per i bambini, cioè si fa per il futuro della città. Quindi è un fatto di grande importanza, così come di grande importanza è la dedizione che ogni giorno i dirigenti scolastici e gli insegnanti dedicano ai bambini. Perché educare sembra facile, ma non è proprio un'impresa facilissima. E per un'altra cosa, perché tutto quello che i bambini imparano in questa età, quando sono piccolissimi, non lo dimenticheranno mai. Quindi loro hanno un'influenza effettiva sulla vita dei bambini. Grazie sindaco. Preside, cosa ha questa visita? Un grande evento per voi? Sicuramente abbiamo avuto questa grande opportunità di avere appunto questo auditorium, perché cercheremo di sfruttare al massimo, di sfruttare sicuramente al meglio per dare a questi alunni, grazie a questi computer che ci sono stati donati, la massima opportunità per la scuola, quindi realizzando tanti progetti e tante cose contenne. Bene, quindi aumenta l'offerta formativa anche per gli alunni del vostro circolo. Vuole ripetere il suo cognome, Preside? È Oliviero, Daniele Oliviero. Grazie, vi aspettiamo su napolinord.it. Grazie.